Un'altra iniziativa di cultura nazionale, sempre dedicato al caso di David Rossi, che specialmente ultimamente stanno venendo fuori delle sfumature davvero inquietanti. Sì, sabato 31, sabato prossimo, alle ore 17.30, saremo alla Feltrinelli per presentare questo libro della figlia di David Rossi, Carolina Orlandi, che viene a presentare questo libro, se tu potessi vedermi ora, che è il libro fatto dal punto di vista molto personale, di quello che lei ha vissuto, lei è stata la prima ad arrivare lì, per cui anche le sensazioni, ma soprattutto ci verrà a dire insieme alla moglie di David Rossi, che tornerà eccessionalmente ad arresto, Antonella Tognazzi, verrà a dirci i nuovi sviluppi che ci sono stati. Voi tutti avete visto il servizio delle Iene che c'è stato pochi giorni fa, ci sono nuove inchieste che si stanno aprendo, nuovi filoni di indagine che si stanno aprendo, insomma il caso sta montando, noi lo abbiamo portato qui ad Arezzo al grande pubblico, ricordo le centinaia di persone che sono state all'evento, e ci auguriamo che ci sia la stessa partecipazione perché ci saranno nuove novità, notizie nuove, e soprattutto capiremo quello che sta succedendo. Il servizio delle Iene è andato in onda pochi giorni fa, fa capire che la montagna è veramente grande, noi non vogliamo ovviamente sostituirci alla magistratura, ma cercare di dare un tassello di verità su quello che sta avvenendo, credo che la cultura debba fare anche questo.